Ciao, sono Federico, ho 24 anni, sono l'ossente di medicina al quarto anno, adesso lavoro al box informazioni delle GRU, quindi ci occupiamo un po' di dare informazioni ai clienti, rispondere al telefono quando chiamano per chiedere qualcosa, facciamo anche da biglietterie, ho fatto altri lavori sempre negli ultimi tre anni alle GRU, sono stato al GRU City, che era una struttura che c'era fuori per l'intrattenimento dei bambini, in inverno mi sono spostato al GRU On Ice, la pista di pattinaggio. Ciao, sono Claudia, ho 20 anni e da quasi un anno lavoro presso il centro commerciale Le GRU nell'Infobox, inoltre sono anche una studentessa universitaria e sono al secondo anno di consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane. Appunto la cosa che preferisco di questo lavoro è il contatto col cliente, il fatto che il lavoro sia sempre dinamico, fin da quando sono piccola sono sempre venuta al centro commerciale in quanto abito a Grugliasco e quindi non era una realtà a me nuova. Non è troppo facile riuscire a organizzarsi tra lavoro, l'università appunto, tirocini e qualche tempo libero per un po' di svago, però organizzandosi per tempo si riesce a fare più o meno tutto. Una domanda che mi viene sempre posta è cosa vorrei fare dopo l'università, quindi quale specialistica intraprendere? intraprendere, ma è una domanda a cui non so ancora rispondere. Penso che negli ultimi anni adesso avrà modo di vedere i diversi reparti, le diverse specialistiche e poter capire magari un po' meglio cosa vorrò intraprendere una volta finito il percorso. Non è facile conciliare lo studio e la vita lavorativa, però collaborando anche con i miei colleghi riusciamo a incastrare le varie cose. Una volta terminati gli studi il mio sogno sarebbe quello di continuare a lavorare sempre a contatto col pubblico, possibilmente nelle risorse umane, quindi nella gestione del personale. Appena c'è qualche giorno libero mi piace molto andare al mare per unire un po' il relax a una mia grande passione che è quella di fare le immersioni, fare subacquea. Nel tempo libero mi piace fare sport e viaggiare. Pratico sport da quando sono piccola. Ho anche allenato per due anni del bambino e del mini volley. Mi piace uscire e viaggiare, mi piace soprattutto scoprire posti nuovi e uscire con le mie amiche anche andando nei locali e divertendoci tutte insieme. Claudia, il tuo libro preferito? George Orwell ed è 1984. Il mio invece è il Codice da Vinci. E invece parlando di musica qual è il tuo genere preferito? L'indie ma anche il pop. Io ascolto qualsiasi genere, in particolare musica comunque commerciale o reggaeton. Qual è il tuo film preferito? Il Diavolo Veste Prada. Il mio Inception. Qual è il tuo posto del cuore? È Londra perché mi sono trovato benissimo sia come città che come ambiente tra le persone che la vivono. Il mio è Iviza, ci sono andata e ci ho lasciato un pezzo di cuore. Qual è la cosa che preferisci del nostro lavoro? Il contatto col pubblico, quindi la relazione col cliente. A me piace un sacco l'avere a che fare con un sacco di persone, tutte diverse, ognuno che chiede qualcosa di diverso, dalle cose più strampalate a quelle più ordinarie. Fede siamo in ritardo, dobbiamo andare!